Noi sono il presidente del Coro Serenissima, il Coro Serenissima è sorto nel 1978, siamo attualmente 17-18 persone, anni fa eravamo sulle 25. L'attività nostra è che facciamo volontariato nei vari enti comune di Venezia, partecipiamo alla regata storica, partecipiamo all'assenza, attività che il comune ogni volta ci chiede e noi siamo sempre disponibili. Facciamo anche altre attività con altre associazioni, sempre di volontariato.